...quasi 200 euro, in più più vestivi dall'opportunità di utilizzare anche le rate in questo periodo di saldi. Attenzione di questa coppia di orecchini e lobo perché sono limitatissimi, ne rimangono 10 pezzi brave che le state acquistando perché ci sono le spese di spedizione che sono gratuite, quindi non andate a pagare nient'altro se non il coppio.